Salve a tutti, sono Gianfranco Marini e in questo mio intervento video vorrei spiegare in che cosa consiste il digital storytelling, la narrazione digitale, in relazione all'insegnamento e all'apprendimento, quindi il problema è in che modo la narrazione digitale può supportare i processi di insegnamento e apprendimento. Dato la vastità dell'argomento, che è piuttosto labirintico, la forma di comunicazione narrativa è una delle più antiche della storia della cultura umana, è impossibile trattare questo argomento in modo esaustivo. Per questo ho pensato di strutturare questo intervento come un percorso che chiunque può poi autonomamente intraprendere per approfondire ciò che più gli interessa di questo tema, sfruttando i link, la bibliografia, la sitografia che ho inserito in questa presentazione che gli verrà fornita. Il mio intervento sarà suddiviso in due parti, in questo primo video cercherò di partire da una definizione di narrazione e narrazione digitale, di individuare la frontiera attuale della narrazione che è il transmedia storytelling, di individuare poi le funzioni della narrazione e della storia della cultura e di collocare poi la narrazione in un contesto più pedagogico e didattico. Dopo questa lunga premessa vorrei mostrarvi questo grafico tratto da Google Trend, certamente non indica una tendenza oggettiva ma permette di farsi un'idea approssimativa in questo caso della diffusione dell'interesse sullo storytelling in Italia in questi ultimi cinque anni. Il grafico è il risultato della frequenza con cui questa parola storytelling è stata ricercata dagli utenti nel motore di ricerca in Google. Come si vede dal 2011 al 2017 è quadruplicato l'interesse degli utenti per lo storytelling. Cerchiamo ora di partire da una premessa che individui o comincia a individuare e a ritagliare lo spazio dell'argomento di cui stiamo trattando. Che cos'è la narrazione in generale, quindi digitale o indigitale, la narrazione è una strategia comunicativa che mira a coinvolgere gli utenti, le persone, in un'esperienza che sia comunicativa che formativa e che sfrutta a questo scopo, il coinvolgimento, gli strumenti della narrazione. Fornendo una interpretazione o lettura della realtà e dell'esperienza che è fondata su valori e su emozioni, trasmessi attraverso il meccanismo della identificazione. Cerchiamo adesso di capire cos'è questo pensiero narrativo con cui noi leggiamo e interpretiamo la realtà. Bene, è un modo di organizzare gli eventi. Gli eventi sono tutto ciò che accade intorno a noi e la narrazione dispone questi eventi in una sequenza. Una sequenza che può essere causale ma anche insieme cronologica e soprattutto comportamentale. Cosa vuol dire? Che questi eventi vengono interpretati come il risultato dell'agire e dell'interagire di personaggi, situazioni e ambienti. In questo modo ciò che accade acquista un preciso significato. La storia mette insieme, cuce insieme gli eventi spiegandoli, interpretandoli narrativamente appunto. In questo modo noi cosa otteniamo? Ci rendiamo subito conto che in questo modo viene trasmessa, anzi viene costruita e trasmessa sia l'identità individuale che l'identità collettiva. Pensiamo per esempio a quando raccontiamo agli altri quello che abbiamo fatto. Cosa ti è successo stamattina a scuola o al lavoro? Oppure raccontiamo il viaggio che abbiamo fatto durante le nostre vacanze? È uno schema narrativo e noi raccontando ciò che ci è accaduto lo interpretiamo e costruiamo anche la nostra identità e i nostri valori trasmettendoli agli altri. Allo stesso modo avviene per l'identità collettiva. Certe storie sono storie collettive di un popolo, di un gruppo, che può essere anche il gruppo dei tifosi di una squadra, per esempio di calcio, che hanno la loro storia, i loro valori e così via. In questo modo noi costruiamo l'esperienza. Cosa vuol dire? Che l'esperienza in quanto organizzazione ordinata degli eventi che ha un senso, è questa l'esperienza, non coincide con il flusso immediato degli eventi che ci accadono intorno. Noi questi eventi li interpretiamo e costruiamo così l'esperienza. E' questo ciò che fa il meccanismo narrativo in modo molto semplice e molto efficace, trasmettendo in questo modo anche che cosa? I valori, gli abiti, gli schemi di comportamento, le credenze, le regole, le norme di una società, per esempio, o di un gruppo. Per essere meno astratti, fare un esempio. Vediamo subito come le funzioni, gli schemi narrativi possono conseguire i risultati che dicevamo. Prendiamo la peste. La peste è lo schema narrativo della peste come punizione divina. Lo schema narrativo è molto semplice. La pestilenza che tanto orrore e tante morti produce, l'epidemia, è una punizione divina. Lo schema è quello dell'uomo che ha infranto delle norme e della divinità che lo punisce. Dall'Iliade, dove Febo Apollo scaglia le frecce e provoca la peste nell'accampamento Acheo, all'Edipo Re, dove Tebe è afflita dalla peste, dalla peste del Trecento, attribuita appunto al peccato degli uomini all'intervento divino, lo schema narrativo si ripete in contesti differenti, in religioni differenti, ma mantiene lo stesso schema. È uno schema antropomorfo, nel senso che appunto viene applicato questo fenomeno inspiegabile, misterioso, che tanta paura produceva perché non si capiva quello che stava succedendo, penso alla peste del Trecento, trova in questo modo una spiegazione nella proiezione di uno schema antropomorfico, e cioè, così come il Signore del luogo punisce con torture e morte quei suoi sudditi che si ribellano al suo volere, così il Signore dei Cieli, eccetera, eccetera. Bene, vediamo che funzioni ha questo schema narrativo. Prima di tutto fornisce una spiegazione a ciò che accade. Il lato più terribile della peste del Trecento non erano tanto le morti, certo, erano quelle, ma era che non si capiva cosa stava succedendo. La morte era un'esperienza abbastanza comune, ma non si capiva perché queste persone morissero. Invece, questo schema dà una spiegazione, che è già di per sé rassicurante, ma questa spiegazione fornisce anche quello che è un possibile schema di comportamento per liberarsi da questo male, e cioè pentirsi se il Signore ha diratto con me e mi punisce con la peste, allora io posso portare avanti un comportamento tale da farmi perdonare. E, naturalmente, questa spiegazione serviva anche per rafforzare quelli che erano i valori delle credenze, in questo caso degli uomini di quel periodo del Trecento, su cui si fondava la loro società, la loro coesione, la loro identità collettiva. Ora dovrebbe essere chiaro come la narrazione fornisce una ipotesi esplicativa, piuttosto semplice, se vogliamo anche riduzionistica, di quella che è la complessità degli eventi per rassicurare, rafforzare l'identità e così via. Vediamo adesso in che senso la narrazione diventa digitale. È abbastanza semplice. Diciamo che il Digital Storytelling, tecnicamente, nasce negli anni 90, quindi con la diffusione della cultura digitale, soprattutto con la diffusione di Internet e dei dispositivi digitali. Ma il fenomeno dello storytelling esplode con quello che è il cosiddetto Web 2.0, dove gli utenti da consumatori si trasformano in autori, da prosumer, come si dice, chiedo scusa per la mia pronuncia inglese, e cioè i cosiddetti user generated content, i contenuti generati dall'utente, la quasi totalità delle informazioni da lui, è comunque la maggior parte, sono contenuti generati dagli utenti. Non abbiamo più lo schema broadcast, quello televisivo o del Web 1.0, e cioè uno schema in cui abbiamo un unico emittente, poche persone che sanno usare Internet, costruire un sito Web, usare l'HTML, che trasmettono a tutti gli altri, che sono utenti passivi, un po' come quelli televisivi. No, abbiamo degli utenti che sono consumatori dei contenuti del Web, ma sono soprattutto anche autori, e questo spiega come lo storytelling stia diventando il simbolo, insomma, della nuova cultura pop popolare. Il digital storytelling in particolare nasce dalla combinazione di quelli che sono gli strumenti messi a disposizione dal digitale e dal Web, e quindi elementi multimediali, applicazioni web, software, eccetera, con l'arte del narrare. Ma già Twitter, Facebook, social media, costituiscono delle piattaforme di storytelling. Che cosa caratterizza un documento narrativo rispetto a un normale documento, diciamo così, multimediale? Beh, ovviamente l'applicazione della forma narrativa, con cui questi contenuti multimediali sono organizzati e rapportati tra di loro. La valenza emotiva, perché se applichiamo la forma narrativa e lo facciamo bene, scatteranno i meccanismi dell'imedesimazione, del coinvolgimento emotivo. Qui non siamo di fronte a un testo argomentativo. E poi la condivisione, tramite il Web, che naturalmente è sempre stata tipica della narrazione, non è che prima non si condividesse, pensiamo appunto alla scena tradizionale dei cacciatori attorno al fuoco che si raccontano le loro storie, o del nonno davanti al caminetto che racconta i nipotini, eccetera, quindi la condivisione c'è sempre stata, ma mai con strumenti così potenti, come quelli resi disponibili dal Web, pensiamo a tutti i social media, che permettono di avere un'utenza potenzialmente coincidente con la totalità degli utenti del Web, cioè con miliardi di persone. Qui ho messo in link a un articolo che ho scritto io e in cui cerco di fornire un quadro sintetico del digital storytelling e delle problematiche connesse nell'ambito didattico. Vediamo adesso brevemente quelle che sono le funzioni, in parte si è già accennato a questo, della narrazione, nella storia della cultura, nella formazione delle culture umane, e con particolare riferimento alla nostra cultura europea. Prima di tutto abbiamo detto una funzione esplicativa, conoscitiva, dare senso agli eventi e fornire una spiegazione, quindi creare l'identità sia individuale che collettiva di un determinato gruppo, ma anche memoria, trasmetterla da una generazione all'altra e trasmettere quindi i valori, gli abiti, i saperi, le regole e così via. Ma la narrazione ha sempre avuto anche la funzione di, in qualche modo, orientare, controllare, guidare l'opinione pubblica, e quindi di formare l'opinione pubblica, o influenzarla o condizionarla. Inoltre è una forma di comunicazione molto efficace quando siamo posti nelle condizioni, come accade per esempio nell'insegnamento, di comunicare, di dover comunicare in modo efficace, attività, contenuti, progetti, documentare esperienze e così via. Questo perché la narrazione contribuisce a creare un ecosistema, cioè un sistema integrato di valori, di norme, di regole, facilmente comprensibile da chiunque, non solo, ma anche in cui chiunque si può facilmente immedesimare. A questo proposito, e a proposito di queste funzioni, suggerisco la visione di questo lavoro di Francesco Gavatorta, si tratta di un webinar, come fare storytelling. Veniamo adesso all'ultima frontiera sullo storytelling. Intorno al 2007 in Italia è apparso il libro di Jenkins, Cultura convergente, qui ho messo anche la prefazione di Wuming, che formalizza in qualche modo il concetto di transmedialità. Che cos'è la transmedialità? Bene, noi siamo abituati a una storia che viene comunicata attraverso media differenti. Pensiamo, non so, a Biancaneve o a Spider-Man, ecco, la storia di Biancaneve o di Spider-Man può essere comunicata attraverso una graphic novel, un fumetto, un film, una canzone, un videogioco, e così via, un libro, un romanzo, e così via. Fin qui niente di strano. Qual è la specificità del transmedial storytelling? E' quella che la storia viene spezzata, divisa in parti, ciascuna con una sua congruenza e con un minimo di autonomia, e queste parti vengono diffuse, spalmate, sistematicamente, in canali differenti, in media differenti, quindi non avremo sempre la stessa storia replicata in media differenti, ma parti di quella storia che vengono parzialmente, appunto, comunicate in media differenti, lo scopo qual è? E' quello di creare un'esperienza narrativa globale. Cosa vuol dire globale? Un'esperienza narrativa che si consuma solo attraverso un approccio sistemico, immersivo e coordinato a più media. Cosa voglia dire immersivo e coordinato? È abbastanza chiaro. Pensiamo, non so, adesso all'universo narrativo di Harry Potter o di Star War e a tanti altri simili, dove abbiamo una immersione totale in questo universo narrativo, sin dall'infanzia degli utenti, del pubblico, ci si vestirà con i vestiti legati a quell'universo narrativo, che so, quello dei supereroi, ci si lavrà i denti con lo spazzolino di Spider-Man, si andrà a scuola con lo zainetto di Spider-Man, si giocherà e si scriverà con la penna, eccetera. Quindi è un'esperienza immersiva che riguarda proprio anche i comportamenti concreti del pubblico, oltre che l'esperienza estetica di intrattenimento. È un'immersione totale in questo universo. Bene, gli scopi possono essere differenti, in realtà il revival dello storytelling è legato più che altro all'intrattenimento, alla comunicazione azientale, al marketing, che so, cosa vuol dire. Vuol dire che adesso il prodotto non viene più presentato nudo e crudo, per così dire, ma viene collocato in un contesto narrativo, che so, pensiamo all'uomo della Coop che si sveglia la notte e si preoccupa non della moglie che gli sta accanto, ma del consumatore. Ecco, questo vuol comunicare certi valori e produrre certe emozioni positive sul brand, sul marchio. Questo quindi per quanto riguarda la transmedialità. Come entra il pubblico nell'universo narrativo? Ci sono diversi punti di ingresso, possiamo immaginare di entrare in questo universo narrativo con un videogioco o tramite i social media o tramite il sito web di quel prodotto o di quella storia, ma pensate anche alla fanficion. La fanficion è la letteratura prodotta dai fan. I fan stessi, è capitato tante volte, si mettono a raccontare storie, sviluppando con degli spin-off la storia di personaggi secondari, come per esempio se in Capucetto Rossio raccontassi la storia della mamma di Capucetto Rossio e del papà che ne non compaiono nella fiaba tradizionale. I fan possono sviluppare appunto una letteratura vera e propria. Ci sono i cosplay che mirano a riprodurre le scene del loro universo narrativo di riferimento, mascherandosi dei personaggi e magari creano nuove storie che non ci sono nella storia originale oppure ci sono addirittura gli Alternative Reality Games ARG cioè dei mezzi in cui degli strumenti che permettono al pubblico di far parte della storia attivamente. Pensiamo ad Hunger Games dove esiste un sito web in cui noi possiamo iscriverci a uno dei 12 o 13 dipartimenti ora non ricordo possiamo guardare la tv di Capitol City seguire la moda acquistare prodotti vedere i telegiornali eccetera eccetera quindi diventiamo parte della storia contribuiamo a fare la storia e questo avviene all'interno di un contesto transmediale spieghiamo meglio con questo schema che ho preparato immaginiamo una storia molto semplice che tutti conosciamo Capucetto Rosso ecco non abbiamo prima la fabula cioè la struttura ordinata degli eventi della storia che si realizza in modo uguale in diversi media il libro il film il fumetto la storia web il videogioco la serie tv ma abbiamo la rottura della fabula che viene spezzettata e distribuita su canali differenti per esempio nel libro potremmo avere la storia del cacciatore che poi salverà Capucetto Rosso la serie tv potrà trattare che so del lupo e della sua famiglia e dei suoi cuccioli e del perché sia lì nella foresta ad aspettare Capucetto Rosso nel videogioco Capucetto Rosso magari deve consegnare torte a vari personaggi che so a Pinocchio ai tre porcellini e così via e deve affrontare determinati ostacoli il gatto e la volpe il lupo cattivo eccetera quindi come vedete adesso penso sia chiaro il concetto il franchise stress mediale cioè quel progetto narrativo commerciale che è legato ad un marchio in questo caso legato per esempio al personaggio di una storia mira a frammentare questa storia in parti diverse autonome ma solo parzialmente autonome sarà l'utente a mettere insieme in un'esperienza globale coordinata tutte queste parti in modo da ottenere un intero che è più della somma delle semplici parti vediamo ora la storia della narrazione la storia delle storie che come abbiamo visto sono così importanti nella costruzione del senso nell'identità individuale collettiva della realtà nell'apprendimento ma anche nella manipolazione delle persone bene alle origini della narrazione il mitos cioè alla lettera il racconto orale il racconto orale che noi abbiamo a base della nostra storia europea la tradizione è mitologica greca e in un secondo momento si innesta su questa la mitologia ebraica dell'antico testamento quindi abbiamo dei racconti sacri questi racconti sacri sono ispirati dal dio e raccontati da un poeta oppure da un sacerdote ma fondamentale la loro sacralità è data dall'ispirazione divina ma anche dai contenuti perché i contenuti sono contenuti di tipo sovranaturale e l'azione è una azione di tipo antropomorfica cioè gli eventi della realtà sono spiegati come il risultato dell'agire di cause sovranaturali quindi dell'azione di agenti che hanno delle loro intenzioni che producono degli effetti e questo da corpo alla storia gli scopi li abbiamo già visti abbiamo trasmettere conoscenze e valori costruire l'identità legittimare anche il potere il meccanismo è quello dell'immedesimazione della credenza è già dalle origini il mito in qualche modo multimediale quanto meno pensiamo ai miti greci che non solo si sostanziano in racconti magari accompagnati dalla musica ma danno luogo anche a canti a cerimonie a danze sono raffigurati in affreschi o in statue trovano la loro collocazione nei templi e così via quindi dalle origini in qualche modo il mitos è multimediale chiedo scusa vediamo adesso come la narrazione abbia anche a che fare con i processi di formazione e costruzione del potere e con la manipolazione bene che cos'è il potere in termini sociologici schematicamente potremmo dire che il potere è la capacità di far fare a un'altra persona qualcosa che quella persona mai avrebbe fatto se non ci fosse stato il nostro intervento e quindi è controllare il comportamento altrui fare agli altri ciò che noi vogliamo sin dalle origini della narrazione tra le tante funzioni ha anche quella di legittimare i rapporti di potere basta pensare che so alle neide di Virgilio o ai vari miti in cui i semi dei della mitologia greca diventano capostipiti di dinastie regnanti e così via quindi la legittimazione dei rapporti del potere ora questo è molto interessante dal punto di vista educativo non solo i nostri studenti devono conoscere la narrazione e la comunicazione narrativa perché è uno strumento molto importante di costruzione dell'identità e dell'esperienza ma anche perché la conoscenza l'esplicitazione e conoscenza di questi meccanismi consente di essere consapevoli e quindi di riuscire a sottrarsi alla manipolazione bene vediamo cosa avviene la manipolazione è una manipolazione di tipo emotivo delle persone volta a come abbiamo detto modificarne i valori le credenze i comportamenti e così via e questo grazie all'immedesimazione coinvolgimento emotivo che la narrazione garantisce non per niente la narrazione è utilizzata come dicevamo prima nella comunicazione aziendale nel marketing nella politica e così via ma basti pensare ad alcuni movimenti politici dall'esito tragico che hanno caratterizzato il novecento e a quella che un tema prima chiamata la loro ideologia molti oggi chiamano narrazione forse un po' esagerato ma certamente in questi movimenti come il nazismo il fascismo lo stalinismo ha avuto un ruolo essenziale nella narrazione pensiamo al nazismo e alla narrazione del mitzos proprio ariano dell'uomo superiore che ha il diritto di imporre eccetera e a quanto essa sia stata importante in quel movimento politico e a come sia stata un efficace strumento di immedesimazione e coinvolgimento delle masse bene concludiamo questa prima parte con Platone che nella sua città ideale addirittura caccia i poeti perché? perché secondo Platone la poesia rende schiavi la poesia è uno strumento di controllo etterodiretto del nostro comportamento diremo oggi lui usa una metafora interessante la poesia dice come il magnete e cioè attrae il poeta e poi si trasmette come avviene appunto nel magnete questa capacità di attrazione al pubblico agli ascoltatori come una lunga catena di condivisione e menzogna quindi il poeta crea una falsa realtà ma il poeta parla non con la sua bocca ma la sua bocca è mossa le sue labbra sono mosse dal dio la poesia rende dei vasi vuoti invasamento indemoniamento il dio è dentro di noi e parla con la nostra bocca ma soprattutto l'idea del magnete il magnete muove e le cose mosse sono mosse dalla forza esterna non scelgono di muoversi ecco cosa vuol dire Platone in questo senso siamo degli invasati e non siamo più padroni di noi perché il nostro movimento e quindi il controllo delle nostre azioni del nostro giudizio avviene attraverso i meccanismi del coinvolgimento dell'immedesimazione e delle emotività che sono propri del mito eppure la cosa che è interessante è che Platone che addirittura brucia così dice la tradizione le sue commedie le sue opere poetiche Platone scrive racconti e anzi sono tra le parti più note della sua opera note a livello quasi popolare come il mito di Elos dell'Auriga il mito della caverna e così via perché lo fa? perché Platone non rinuncia comunque al potere della narrazione seppure sottomessa alla filosofia noi dovremmo sottometterla tra virgolette alla pedagogia infatti la spiegazione chiedo su la narrazione può essere utile per spiegare in modo più semplice qualcosa è un esempio può permettere di coinvolgere l'ascoltatore e questo è interessante per Platone dal punto di vista pedagogico grazie al fatto che emoziona ma soprattutto perché la narrazione ci può permettere di avanzare ipotesi che razionalmente non possiamo sostenere cioè la narrazione va all'ilà dei limiti del discorso argomentativo io qui ho usato una citazione di Umberto Eco che a sua volta è una parodia di un passo di Wittgenstein e dice Umberto Eco ciò di cui non si può argomentare si deve narrare e quindi Platone narra e questa è la mossa di Platone una mossa fondamentale nella storia della nostra cultura bene chiudo qui vi ringrazio per avermi ascoltati e arrivederci al prossimo video intervento